Un saluto da Manuel Mastrelli per Techzilla.it, siamo qui per effettuare la recensione del nuovo Sony Xperia S, top di gamma della casa giapponese. Partiamo dal design, design che secondo la mia opinione è il migliore mai creato, con una forma affascinante, un display delle giuste dimensioni che è da 4,3 pollici e una barra trasparente nella parte inferiore del dispositivo che è davvero qualcosa di fantastico e che è veramente bella. È anche abbastanza sottile e il peso devo dire che è un peso buono quindi non ci va a dare fastidio anche quando lo portiamo in giro nei jeans o in altre occasioni. Andiamo a vedere meglio il dispositivo, allora nella parte destra dello smartphone troviamo la porta mini USB per la ricarica e per la connessione al computer. Nella parte inferiore è presente una fessura che ci consente di inserire un laccetto e quindi per trasportarlo meglio. Nella parte sinistra del dispositivo troviamo il tasto rapido della fotocamera, i tasti del volume e la porta mini HDMI, eccola qua, per la connessione quindi con fonti video. Per quanto riguarda invece la parte superiore troviamo il jack da 3,5 mm, il tasto di accensione o di stand by. Mentre per quanto riguarda la parte frontale abbiamo la fotocamera da 1,3 megapixel, i sensori di luminosità e anche un LED che ci consente di segnalare le notifiche e quindi ci vengono segnalate attraverso questo LED. Nella parte inferiore abbiamo i tasti touch tipici di Android, quindi posizionati proprio sopra le relative icone che si trovano nella barra trasparente. Per quanto riguarda invece la parte posteriore abbiamo la fotocamera da 12 megapixel con LED flash e nella parte inferiore il marchio di Sony. Una cosa particolare è che la batteria non è rimovibile, quindi noi possiamo aprire il dispositivo ma la batteria come potete vedere non è rimovibile ma si può solo inserire la mini SIM, quindi anche in questo caso c'è mini SIM, non si utilizzeranno più le SIM normali. Quindi ci chiediamo perché comunque fare uno sportello del genere con apertura se poi serve solo per inserire la SIM, bastava fare uno sportellino per la SIM e si risolveva tutto senza mettere a disposizione l'apertura del dispositivo. Passiamo ora alla parte software, il Sony Xperia S monta a Android 2.3.7, questa è una cosa che ci ha fatto un po' storcere il naso perché non capiamo come un dispositivo top di gamma, comunque nel 2012 possa uscire ancora con Gingerbread quando ormai Ice Cream Sandwich è disponibile a tutti da diversi mesi. Comunque anche le altre compagnie stanno avendo notevoli difficoltà nell'aggiornare i propri dispositivi. Quindi una piccola nota di demerito per quanto riguarda il software Ice Cream Sandwich, questo è il software installato di base come potete vedere. Niente di particolare. Funzioni particolari di via software sono quelle della fotocamera, infatti abbiamo una fotocamera da ben 12 megapixel che registra anche a 1080p. Ma la cosa particolare è che questa fotocamera consente di selezionare i vari modalità di scatto tra cui scatto che riconosce le scene, quella normale, utilizzo la fotocamera frontale, una panoramica in 3D, un'apertura multiangolo in 3D e un'apertura panoramica. Allora, io adesso vi faccio vedere delle foto che ho scattato, soprattutto con l'apertura multiangolo che è davvero qualcosa di particolare. Allora, torniamo indietro. Scegliamo l'home di Xperia. Ok. Andiamo a vedere le foto scattate. Galleria. Allora, mettiamo qui modalità 3D. Andiamo a effettuare, quindi questa multiangolo. Esempio questa foto qui. Io non so se riuscite a notarlo, ma spostando praticamente il dispositivo da una parte o dall'altra si sposterà anche l'immagine. Un effetto davvero particolare che non avevamo notato in un nessun altro smartphone. Vediamo se ce n'è un'altra. Ad esempio, questa anche dovrebbe essere fatta con lo stesso sistema. E quindi spostando si avrà un minimo movimento delle foto. Vediamo anche quest'altra. Un effetto 3D un po' particolare. Per il resto il software lo conosciamo. Andiamo a vedere le impostazioni per farvi vedere il dispositivo cosa monta. Eccolo qua, info sul telefono. Versione Android 2.37. Per il resto ormai sappiamo quasi tutto su Gingerbread. Quindi non... Devo dire comunque che il dispositivo è piuttosto fluido, almeno con Gingerbread. Vorremmo provarlo anche con Ice Cream Sandwich. Ho installato anche l'altri launcher che analizzeremo più tardi quando risponderò alle domande degli utenti. Ancora per quanto riguarda la parte software, andiamo a farvi vedere un attimo la navigazione web con questo display da 4,3 pollici che è davvero notevole. Andiamo ad aprire il nostro sito www.techzilla.it Caricamento che avviene in maniera abbastanza rapida comunque. Bisogna comunque vedere se... Siamo sotto connessione Wi-Fi ma non si può mai sapere. Allora andiamo a vedere ad esempio lo zoom. Sembra molto fluido. Non ci sembra di avere grossi rallentamenti. Anche se, come ripeto, avremmo voluto vederlo con Ice Cream Sandwich. Rotazione. Rotazione avviene piuttosto rapida. Ed ecco qua. Beh, posso dire che per quanto riguarda il Sony Xperia S è tutto. Ora risponderò alle domande degli utenti che ci sono state poste sul nostro blog. E quindi vi ringrazio e un saluto da techzilla.it e da Manuel Mastrelli. Allora, iniziamo a rispondere alle domande degli utenti. Una delle domande che ci è stata posta è stata di stressare il dispositivo per quanto riguarda l'utilizzo dei launcher più utilizzati, più diffusi. Quindi abbiamo scaricato... Allora, abbiamo scaricato ADV Launcher, Go Launcher e Launcher Pro. Allora, questo è l'home di Xperia base. Quindi quello l'ho montato già sul dispositivo. Come potete vedere è abbastanza rapido, reattivo. Eccolo qui. Vedete? Guarda, questo qua si può selezionare cosa vogliamo. Ora andiamo a vedere Go Launcher. Ecco Go Launcher. Ho impostato i... comunque i... Come si dice? Gli effetti casuali. Quindi come vedete ha sempre effetti diversi. E' piuttosto rapido, anzi sembra addirittura più rapido del software base installato sul dispositivo. Vedete? Non c'è nessuna difficoltà. Eccolo, molto più rapido. Secondo me è anche molto più rapido rispetto a quello base. Andiamo a vedere poi il ADV Launcher. Eccolo qua. Non c'è molto su queste pagine, come potete vedere. Però anche questo sembra piuttosto rapido. Non sembra dare molte difficoltà. E infine abbiamo Launcher Pro. Eccolo qui. Anche questo sembra piuttosto rapido. Sia nell'apertura, negli spostamenti e tutto. Quindi possiamo dire che tutti i Launcher più diffusi sono comunque quelli che girano meglio rispetto anche a quello base che è installato sul dispositivo. Le domande che ci sono state poste invece sull'hardware riguardano innanzitutto il processore. Il processore è uno Snapdragon S3, quindi con un processore da 1,5 GHz dual core. Anche in questo caso c'è, soprattutto al Mobile World Congress, ci è sembrato un po' strana questa scelta di montare un dual core rispetto a un quad core. Visto che ormai tutti i top di gamma montano tranquillamente un quad core. Un'altra domanda che ci è stata posta sempre sull'hardware è stata se c'era la possibilità di collegare, quindi tramite naturalmente adattatore, dei dispositivi USB. Quindi andiamo a montare l'adattatore. Inseriamo la nostra pennetta USB. In questo modo. Eccolo qua. Eccoci qua. Allora, vediamo. Eccolo qua. Come potete vedere, riconosce subito il dispositivo, riconosce il sistema di archiviazione, quindi funziona tutto correttamente. Infatti lo spazio... Eccolo qui. Totale 8 GB. Chiavetta da 8 GB. Eccolo qui. Un'altra domanda che ci è stata chiesta è se lo schermo resiste ai graffi. Io devo dire che in questi giorni l'ho maltrattato parecchio e come potete vedere comunque non c'è segno di graffi, non c'è segno di niente. Quindi anche ai graffi sembra piuttosto resistente. Bene, le domande finiscono qui. Vi ringrazio a tutti per averci seguito, per aver seguito il nostro video. Un saluto da Manuel Mastrelli e texzilla.it